Amo, vedi che qua oggi per noi è pericoloso perché qua mi sa che devi pagare amore, perché se no facciamo brutta figura Paga la donna a capotavola La donna a capotavola? Nancy, mi ha detto il conte che io ho detto oggi siamo un po' in pericolo qua un po' in pericolo perché dovrebbe pagare il conte mi ha detto no, paga la donna a capotavola tu non ti preoccupare si dice che il rischio di amici è un tasso di guai vorrei fare brutta figura al suo papà di Nancy questo l'ho detto di Nancy Gimmillaro un applauso che tra l'altro non si chiama Gimmillaro Gimmillaro è idro lei non è l'idro no no, ti spiego lei si chiama Nancy Gimmillaro perché lei è Nancy che paga ma paga con la carta di credito io ho un connubio sì ma oggi abbiamo anche il signor Lanzanò abbiamo magari il signor Lanzanò il signor Lanzanò già ha ritardato perché è andato al banco ma c'è che andare a dare 200 euro a lui magari a noi e per chi è andato a dare 200 euro? oggi poi vi passate la serata brava grazie grazie bravo e sta così ma vabbè andrà a 200 euro dopo da tocco non mi intrometto non mi intrometto non mi intrometto non mi intratto